Il Mediterraneo occidentale è interessato da una vasta area depressionale alimentata d'aria fredda proveniente dal nord Europa, dove insiste un esteso anticiclone. Nelle prossime ore pressione in temporaneo aumento sull'Italia e tempo in miglioramento. In Toscana, venerdì 12 aprile parzialmente nuvoloso in mattinata con addensamenti sulle zone interne, possibilità di locali piogge sull'Appennino. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con rovesci sparsi in particolare sulle zone centro-meridionali e sulle apuane. Venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature stazionarie o un lieve aumento sulle zone costiere. Sul territorio provinciale da nuvoloso accoperto con possibili brevi piogge pomeridiane, a Lucche sulla Piana temperatura minima 8, massima 17 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 7, massima 16, a Biareggio sul litorale minima 9, massima 18 gradi. Sabato variabile, mentre peggiora con piogge diffuse nella giornata di domenica.